Benvenuti nel mondo degli orologi Porsche Design. Porsche Design è un marchio di orologi di lusso e accessori fondato nel 1972 dallo stilista tedesco Ferdinand Alexander Porsche, nipote del fondatore della casa automobilistica Porsche. Da allora, il marchio si è affermato nel settore dell'orologeria grazie alla sua estetica unica e alla sua attenzione per l'innovazione tecnologica. Gli orologi Porsche Design sono una fusione perfetta tra stile e funzionalità. Il marchio è noto per l'utilizzo del titanio come materiale per la cassa dell'orologio, un materiale leggero, resistente e antiallergico. Inoltre, Porsche Design ha collaborato con importanti produttori di movimenti per creare orologi di alta precisione. Uno dei modelli più famosi di Porsche Design è il Cronograph 1, lanciato nel 1972. Questo orologio è stato il primo orologio da polso completamente in nero, una caratteristica che sarebbe diventata un'icona del marchio. Altri modelli famosi di Porsche Design includono il Dashboard e il Flat 6. Il Dashboard è ispirato ai cruscotti delle auto sportive e ha un design unico e accattivante. Il Flat 6, invece, è ispirato al motore a sei cilindri delle auto Porsche e ha un design elegante e raffinato. Tutti i prodotti di Porsche Design sono caratterizzati da un design minimalista e funzionale, che riflette la filosofia del marchio. I prodotti Porsche Design sono realizzati con materiali di alta qualità, che garantiscono una lunga durata e un'esperienza di utilizzo unica. Il marchio è amato dai collezionisti di orologi di lusso e dagli appassionati di design innovativo. Ma non solo titanio, Porsche Design utilizza anche altri materiali di alta qualità come l'acciaio inossidabile, il vetro zaffiro e il carbonio. Questi materiali garantiscono una maggiore resistenza all'usura e una maggiore longevità dell'orologio. Porsche Design non si limita a creare orologi di altissima qualità, ma si impegna anche a produrli in modo etico e sostenibile. Il marchio è impegnato nella tutela dell'ambiente e nella riduzione dell'impatto ambientale della sua produzione. Porsche Design utilizza solo materiali di alta qualità, provenienti da fornitori che rispettano gli standard ambientali. Se sei un appassionato di orologi di lusso e di design innovativo, Porsche Design è sicuramente un marchio che non puoi perdere.